Massimo Ragneri, artista poliedrico napoletano, sarà l'ospite d'onore della perdonanza celestiniana, edizione numero 722. Massimo Ragneri terrà il concerto di chiusura il 29 agosto, ma sarà anche il testimonial di tutta la perdonanza celestiniana, come annunciato da Alfredo Moroni, vicepresidente del comitato organizzatore. Ricco il calendario di eventi che partiranno il 17 agosto per concludersi il 4 settembre, con la seconda edizione della Rassegna Jazz, che l'anno scorso portò all'Aquila oltre 600 artisti e 60.000 persone. Quest'anno il tema scelto sarà quello dell'amore per la natura e per l'ambiente, con un collegamento forte tra San Pietro Celestino, il Papa del Rifiuto e San Francesco, il poverello d'Assisi. Assisi appunto ospiterà la bolla del perdono in una mostra documentaria, aperta da luglio sino ad ottobre. La bolla tornerà ad ottobre all'Aquila e sarà restaurata. Il 4 ottobre ci sarà anche un convegno per parlare di Celestino V e San Francesco. Il comune ha messo in piedi anche diverse iniziative con il FAI, come la Marcia del Creato, che ci sarà il 20 agosto. Esistono poi alcuni altri elementi che riteniamo fondamentali per la costruzione di tutto il cartellone. Uno è il torneo della pace, che dal 27 al 29 di agosto interesserà le squadre a primavera di Juventus, Torino, Roma e Pescara. L'altro è un argomento di fondamentale importanza in questo momento, che viene realizzato attraverso un monologo su un'opera di Antonio del Giudice, che è quella relativa al dottor Nisticò, che in questi giorni è stato presentato in anteprima, credo, a Pescara. La Porta Santa di Colle Maggio, anche se in fase di ristrutturazione, sarà aperta e messa in sicurezza per consentire il passaggio dei pellegrini attraverso la porta. Ad aprire la Porta Santa, il Cardinale Edoardo Menichelli, Giorci Vescovo di Chieti e segretario della Commissione Episcopale per la Famiglia, dal 27 al 29 agosto, inoltre, prenderà il via la seconda edizione della Coppa della Pace, che quest'anno vedrà sfidarsi le primavere di squadre come Juventus, Torino, Roma e Pescara e l'Aquila. Alla conferenza stampa erano presenti anche i componenti del comitato, Don Carmelo Pagano Le Rose, Don Vito Sacchi e la storica dell'arte Giovanna Di Matteo, oltre al responsabile della Scuola Calcio dell'Aquila Calcio, Maurizio Ianni, che ha illustrato appunto il programma della Coppa della Pace, torneo giovanile, che si terrà ad agosto allo Stadio Fattori.